Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla Lo so, ogni volta mi vedete in un'angolazione diversa, ma effettivamente non trovo mai la posizione più corretta Quest'oggi in particolare state vedendo che qui c'è un buco, in realtà lassù in alto in libreria Ma è perché sto facendo un po' di compravendite di cose, sto riassestando un attimino la libreria E soprattutto quel punto lì risulterà piuttosto evidente, ma a breve penso che ci metterò qualcos'altro di consistente Fatte queste premesse che c'entrano molto poco con l'argomento di quest'oggi, passiamo subito al topolino 3295 Un topolino che vede una copertina davvero molto bella, molto minimal ma molto bella Questo zio paperone disegnato da Giorgio Cavazzano, credo, fatto davvero molto bene Ovviamente ci richiama una storia ambientata nel Klondike Così come nel numero precedente c'era una storia che richiamava una storia all'interno del topolino Ma comunque la copertina era molto fruibile, molto godibile a sé, senza eccessivi richiami Anche in questo caso qui viene fatto un lavoro davvero davvero eccellente C'è giusto uno strillo che ci dice che c'è un ritorno nel Klondike Però la copertina è davvero minimal, molto molto bella, molto d'impatto Anche la prossima, vedendo il finale di topolino, sarà così Vi faccio giusto vedere la copertina, questo paperinic Che credo sarà disegnato da Andrea Freccero Perché ho visto alcune immagini di Freccero sulla sua pagina Facebook Che postava un po' di prove di copertina E c'era paperinic, c'era questa Quindi credo che sia Andrea Freccero Tuffiamoci a bomba, un topolino che è un pochettino più corto O meglio, non è più corto degli altri Contiene solo 5 storie Perché comunque ce ne sono tante che hanno anche una lunghezza piuttosto consistente Mentre di solito ce ne erano un paio di più brevi Andiamo con ordine e parliamo quindi delle 5 storie contenute all'interno di questo volume Il topolino si apre con la storia ovviamente dedicata a Zeba Perone e i tempi del Klondike Di Pietro Zemelo per i disegni e i colori di Fabio Celoni Perché aggiungo anche i colori, perché lo starete vedendo qui a mia sinistra La scelta grafica, la resa dei colori è davvero ben studiata Graficamente è una storia eccellente Non solo per lo stile di disegno di Fabio Celoni Che è un artista veramente di altissimo livello E che pensavo sarebbe stato sprecato per questa storia qui Ma l'uso che se ne fa anche dei colori, della colorazione scelta Rende il tutto davvero magnifico e magico Tutte le atmosfere che Pietro Zemelo voleva che fossero così all'interno della sua storia Quindi è una storia veramente fatta bene Ben curata anche dal punto di vista grafico Fabio Celoni non è un artista che ha bisogno di troppe presentazioni La parodia di Ratkille e Hyde Comunque Dracula Comunque Frankenstein Uno stile molto bello, molto gotico se vogliamo Che temevo Temevo non sarebbe Intendiamoci È un artista che può fare abette altissime Quindi qualunque cosa fa la fa bene Però temevo sarebbe stato sprecato E invece no La storia è molto molto bella Forse non dico tra le migliori femmine di quelle di questo 2019 Ma davvero un'eccellenza Pietro Zemelo imbastisce una trama molto semplice Con uno zio paperone Alle prese alla ricerca di un tesoro nel Klondike E nella sua controparte nel presente Un amico con cui aveva cercato quel tesoro In netta difficoltà E ovviamente questo farà sì che ci sarà un richiamo completo A le vicende che si potevano Come si sarebbero potuto svolgere alcune vicende nel Klondike Con tante piccole diramazioni Storia davvero davvero interessante Un what if Uno sliding doors se vogliamo E continuo Davvero davvero ben fatto Pietro Zemelo davvero complimenti È un artista È un autore Che ha sempre saputo dimostrare un certo valore Se non ricordo male dovrebbe essere sua Storia dell'inquitante Niappo Quindi anche a livello di generi Si presta ad articolarsi Anche in forme e modi diversi E non c'è niente da dire Complimenti Questa è stata probabilmente una delle storie Che se ci sarà un The Best of Papropoli 2020 Questa ci deve essere Se non c'è questa il resto non è E siamo solo a gennaio 2019 La seconda storia di questo topolino è scritta e disegnata da Giuseppe Zironi Ed è Super Pippo e Indiana Pips e l'Alleanza Piramidale Storia che non mi ha convinto più di tanto Per quanto ci sia questa strana coppia che è Super Pippo e Indiana Pips Che effettivamente non ricordo se ci sono delle storie in cui ci sono questi due personaggi Che effettivamente si incontrano e fanno cose Il vederli insieme in un'avventura che poi è perlopiù un'avventura di Indiana Pips Con Super Pippo Svilisce un pochettino il tutto Senza contare quell'effetto Power Rangers Che si verifica da un certo punto in avanti all'interno della storia Che ti fa un pochettino cascare le braccia Non è una storia brutta in termini generali Ha sicuramente il potenziale legato a Questa strana coppia che si incontra e si muove insieme C'è un villain comunque ben caratterizzato e ben studiato Che riesce a mettere in difficoltà sia Super Pippo che Indiana Pips Però è abbastanza evidente che fin dall'inizio risulta abbastanza chiaro e lampante Che a risolvere la situazione sarà Super Pippo Perché ha i superpoteri Super Pippo che non è usato neanche troppo male In realtà è meno comico e meno macchietta Cosa che a me piace perché secondo me non è un personaggio da macchietta e basta Però rimane un pochettino sottotono Si poteva fare qualcosina di più in generale Però tutto sommato è una storia che si lascia leggere volentieri Gabriele Panini e Danilo Barozzi Disegnatore che non ricordo Non mi ha fatto un'impressione incredibile Però non mi è neanche dispiaciuto In Banda Bassotti, Pasticci Assortiti, La Rapina Storia l'unica in realtà breve perché le altre due sono comunque lunghe Di questo volume Una storia che vede uno dei bassotti non mi ricordo neanche quali Venire screditato dagli altri perché è un inetto, un incapace Ha un piano per una rapina E ovviamente nel mentre che comincia effettivamente la storia Te sai già dove andrà a parare Sai già dove va a finire Perché è una battuta vecchia come il mondo E sono cose già viste riviste E sotto questo punto di vista non c'è particolare innovazione La storia è tutto sommato divertente Nel senso che ti strappa una risatina Però non è, ecco, è una breve che funge da breve Da riempitiva Fa il suo lavoro Ti strappa una risata Ma dopo poco te la dimentichi Perché non ha questa trama così elaborata Che ti vuole rimanere in testa Roberto Gagnor e Luca Usai In La storia dell'arte di Topolino Mickey Musou e Lo scatto di soppiatto Le altre storie di questo ciclo della storia dell'arte Avevano degli approfondimenti in seguito Per l'appunto Insomma degli editoriali Che spiegavano qualcosina di più Qui non c'è nulla di tutto questo La storia viene buttata lì in mezzo alle altre Senza secondo me dargli il giusto rilievo Il giusto peso a questa storia nello specifico Peccato perché secondo me l'avrebbe meritato Però la storia che è molto semplice Che ci parla ovviamente della fotografia Di come funziona la fotografia Questo ciclo della storia dell'arte di Gagnor Si vuole proprio basare su Più che su un artista Su diversi modi di fare arte E di conseguenza Come funziona Questi tipologie di arte C'era stato il manga se non ricordo male Comunque il fumetto orientale C'è questa storia qui Comunque con delle spiegazioni Anche all'interno della storia stessa Su come realizzare In questo caso la fotografia La storia è ambientata a Parigi Nei primi anni del Novecento E ci parla di questo Fotografo musono Vi giuro Sono abbastanza ignorante in materia Quindi non so Chi si stia realmente parodiando La storia è un solito Gamba di legno Che fa lo sbruffone Nello spavaldo Topolino che deve cercare Di fermare il piano di gamba di legno Molto tranquilla Molto regolare Una storia molto disneyana Molto classica Però è molto bello Quello che è palesemente Il topolino Che scatta le foto Come quelle del fotografo Di cui si sta parlando All'interno di questo volume Che si sta parodiando Suo modo E gli scatti Che vengono realizzati Hanno anche questa colorazione Molto particolare Che rendono davvero Davvero molto molto bene Storia che Non mi è parsa incredibile Ma molto onesta Nel suo procedere Molto molto divertente Mi è parsa onesta Ma non è incredibile Ecco non è È una storia fatta bene Fatta davvero con maestria Davvero con sapienza E soprattutto Che ha questo intento Di da scalico Ma che non annoia Perché comunque C'è il contorno divertente Della storia Con i nostri personaggi Disney Che riesce a sopperire Ad una pesantezza Che sarebbe secondo me Abbastanza immediata E lampante Storia riuscita Storia davvero riuscita Non tra le migliori Del ciclo Probabilmente Ma comunque Molto ben realizzata Chiude quest'albo Sempre Roberto Gagnor Per i disegni Di Paolo De Lorenzi Picco De Paperis E la contesa Del Capannone Storia di conclusione Dalla quale Non avevo molte aspettative È una storia comica Come mi aspetto Da Roberto Gagnor Che riesce a fare Storie comiche Molto divertenti Con Picco De Paperis Come assoluto Protagonista Personaggio che È sempre stato per me Abbastanza una piattola Abbastanza pesante Da sopportare Ma che qui È inserito In un contesto Così strambo Da risultare Estremamente divertente Nel suo procedere C'è questa guerra Tra due gang Di graffittari Rapper In un subborgo Di Paperopoli Non è malfamato Ma comunque Un po' così C'è questo Capannone Ci sono loro Queste due gang Che non si parlano E si odiano E Picco De Paperis Che vuole Il comune Chiede a Picco De Paperis Di intervenire Per far terminare L'ostilità tra le parti Ecco E vedere Ci sono delle scene Molto molto divertenti Con Picco De Paperis Che cerca di parlare Estremamente forbito Con degli zoticoni Che sono dei ragazzi Che ovviamente Sono magari anche istruiti Hanno fatto anche via scuole Però ecco Sono dei rapper Quindi sono un po' ragazzi di strada E poi Yo bella fratello Stola tantissimo E poi soprattutto Quando c'è C'è una scena Che è veramente incredibile Dove Picco De Paperis Rappa E lì Sono morto Sul treno Mentre leggevo la storia Senza considerare Che poi c'è anche Ovviamente Ci sono le versioni Parodizzate Almeno per i nomi Di alcuni Cantanti Rapper Personaggi Più o meno noti Ed è Veramente Quando ho letto Middle Age D'Amerino Ho detto No Non può essere Middle Age D'Amerino È qualcosa di veramente Veramente Fuori fuori Middle Age D'Amerino Per me ha vinto Semplicemente Con quella scritta lì Ha vinto tutto Storia divertentissima Con Una moralina di fondo Se vogliamo Anche abbastanza scontata Con l'amicizia Che vince Tutto Perché comunque Alla fine Le due gang Ritorno ad essere amiche Quindi possono superare Delle avversità Quindi Nulla di nuovo Sotto Sotto il sole Però Una storia Davvero davvero divertente L'ha fatto davvero Ridere tanto tanto In conclusione Topolino Questo Che Si difende Molto bene Il 2019 Io vi giuro ragazzi Ci fosse Sempre così Il topolino Metterei la firma Controfirmerei E Vi direi di acquistarlo sempre Questo topolino qui È Perfetto Non ha Si storie che magari Non saranno Sempre eccezionali Ma sono le storie Le riempitive La storia finale Vi fa ridere La storia iniziale È molto Molto bella Molto sentimentale Molto toccante Ci sta sempre Alla grande C'ha il suo intento Di da scalico In una storia Che comunque Riesce ad essere Divertente E funzionare Che vi devo dire Cioè Questo topolino qui È un topolino Perfetto Sarebbe il topolino Ideale Sempre e comunque Straconsigliato Straconsigliato Da leggere tutto Anche la storia è breve È breve La leggete Ve la dimenticate subito Però Strappa una risata Fa il suo Topolino quindi Come vi dicevo Straconsigliato 2,70 euro Secondo me Ben spesi Ecco Non è che Topolino Disney Mi manda Mi chiede di fare Recensioni positive Però Questo qui Mi sento davvero Di dire Che ne vale la pena Il fatto che Aggiungo giusto Una considerazione Legata alla storia Dell'arte del topolino Qui non ci siano Editoriali Di approfondimento Mi fa pensare Una cosa Legata anche Ai Disney Special Events Il primo numero Uscirà a marzo Se non ricordo Ma a febbraio A febbraio esce Dedicata alla storia Dell'arte Della storia del cinema Di Topolino È molto probabile Che quella Collana Disney Special Events In realtà Voglia essere L'altro topo 2.0 Ed essendo L'altro topo 2.0 Conterrà Effettivamente Degli editoriali Viene detto Su anteprima Che saranno Editoriali Inediti Sulla storia Del cinema Cosa che Gradisco Tantissimo Perché Non sono così Esperto E probabilmente Ho bisogno Di avere Delle Delucidazioni Sulle citazioni Che sono state fatte All'interno Delle storie Quindi Che c'è Quella cosa Lì Perfetto Non vorrei Che da adesso In poi Possano pensare Di inserire Lì Anche L'altro Anche La storia Dell'arte Il ciclo Comics and Science E altre cose Di questo genere Che Si valorizzerebbero Queste storie Gli darebbero Importanza Però Erano belle Perché Sul Topolino C'erano Degli editoriali C'erano degli Approfondimenti Che qui Sono venuti A mancare Toglierli qui Per metterli La Mi scocciare Cioè Personalmente A me dispiace Perché comunque Posso capire Chi non vuole acquistare L'edizione Quella lì Però posso capire Che lì Vogliono inserire Qualche chicca Non presente Sul Topolino Anche per invogliare L'acquisto Per la storia del cinema Sappiamo che ci saranno 5 storie su 8 Bisogna vedere Se faranno altre Storie di questo ciclo Per fare Un secondo volume Poi magari anche un terzo Se ne sentiranno La necessità Molto probabilmente Però ecco Le ultime storie Del ciclo Della storia Dell'arte Vedranno la luce Spero In quell'edizione Lì Edizione che Non ve l'avevo detto Sul video di anteprima Sarà Cartonato Questo ve l'avevo detto Le dimensioni Dovrebbero essere Quelle del Topolino Quindi Dimentichiamoci Il formato grande Dell'altro Topo E sinceramente 10 euro Per un volume Come questo Cartonato Mi fa un pochettino Ve lo dico Ve lo dico Chiaro e tondo Uno ogni tanto Se è una rivista Che si è un'uscita Molto sporadica Tipo 1-2 l'anno 3 l'anno Non di più Si può anche fare Però Insomma Il fatto che ci fosse Il formato più grande Valorizzava parecchio E soprattutto Nella storia dell'arte C'era bisogno di quello Per vedere anche al meglio Le parodie Dei quadri Parodizzati Il fatto che Non sarà così In realtà Non lo possiamo sapere Lo scopriremo Più avanti E niente Vediamo Questo è davvero tutto Qui da Francesco E proprio alle mie spalle Dalla soffitta di camera Mi non più soffitta è tutto E noi ci vediamo Ad una prossima video Opinione del canale Ciao